il vino questo è il rosso piceno vi ho aperto un po' prima rosso piceno dovrebbe sostituire lo sfuzzato cosa? l'ammarone questo è un po' che parola è quello che costa il fio di tutti ed è quello fantastico sempre lo zelluccio in primo piano saluta il pivetta saluta la veglia buona festa non puoi uccidere la bosca tutta la famiglia vi chiudete dentro una vostra montata insieme perché questa è la marone della valpolicella la bosca qui sei oggi il paletta con la maglietta degli impossibili devo prenderla nella testa no no saluta la delio che rintenditore è aperto da poco è rosso è rosso è rosso è rosso scusa è molto bambino è molto bambino però col vino qua va bene va bene questo lume rosato grazie giallo com'era per te rosato? abruzzese a me rosato non è che mi ha convinto molto rosso si ma rosato no come no assaggia Lucio tu che sei un intenditore di rosato buona buona grazie cos'è quello? presentalo un pecorino sì pecorino un vermentino di sardegna bianco rosato pecorino pecorino ok com'è Lucio? ha perso un pochino però è buono non è male non è male? è ghiaccia cos'è quello? pecorino romano? no quilano questo Igor per un bicchierino si so che devo fare la serata che ci vuoi si per un po' di vino bevo qualcosa di un po' più fresco dai si io lavoro tu bevi ci sei tu, c'è Rossella, c'è Igor, c'è Gabriele, io e Fabio facciamo i facchini lui ci mette un bel rosato davanti io faccio da mangiare infatti no non faccio da mangiare forse che a me non mi fate fare i conti questo? ricciotto ricciotto buono com'è? buono 18 luglio siete tutti invitati all'enoteca presso la festa di comunisti in festa a Cornaredo vi aspettiamo siete anche invitati a visitare una mostra sull'amianto che sarà a fianco all'enoteca vi aspettiamo numerosi e siateci e siateci e siateci bene poi tagli anche Igor fantastico